Il Campobasso lavora sodo in vista dell'esordio interno stagionale contro il Taranto. Dopo l'1-1 da Avellino, il Rosso-Blu vogliono proseguire nella loro striscia positiva, in una sfida dall'alto valore, anche storico, per la piazza, che ricorda i tanti incroci del passato, all'insegna di una forte rivalità. Cudini ha il solo lato infortunato, mentre per il resto il tutto l'organico è a disposizione. Intanto la commissione di vigilanza ha lasciato la capienza dell'impianto di Selvapiana a 3950 posti, non ampliando di fatto il numero. In mattinata c'è stata anche una riunione in questura e sul punto è possibile che società comune di capoluogo di regione convochino una conferenza stampa congiunta nella mattinata di domani. Del resto, da parte dell'organismo di verifica, a fronte ai lavori richiesti ultimati relativamente al parcheggio con illuminazione divisorio e alle strutture di cemento all'interno dell'impianto, restano ancora alcune perplessità su determinate situazioni che non porteranno a 7000 la capienza complessiva dell'impianto. La gara contro il Taranto, peraltro, oltre che su 11 Sport, avrà anche una ribatta su Sky, con diretta sia su Statellite che su Digitale Terrestre. L'attesa intanto in città è crescente, il lupo vuole iniziare al meglio la sua marcia interna e provare a dare entusiasmo all'intero capoluogo di regione, che non vede l'ora di emozionarsi pienamente per i propri colori. Grazie a tutti.